Gli alpini di Clusone hanno restaurato il lavatoio delle fiorine dove ci troviamo, vediamo anche la scritta Fonte Albiei, verrà inaugurato domani, sabato 14 ottobre alle 16. Come è nato questo nuovo intervento, questa nuova iniziativa degli alpini? Come ben sai ormai gli alpini sono sempre stati un po' vicini a questi monumenti storici che sono un po' dislocati lungo tutto il territorio clusonese. Il lavatoio è anche questo, è un luogo magari dal punto di vista architettonico o artistico non è un manufatto di grande pregio, però ha un valore molto importante perché rappresenta dove la gente veniva a lavare i panni, a beverarsi, a far beverare gli animali, quindi è un valore molto importante dal punto di vista di vita del paese e dalla contrada delle fiorine. Fra l'altro all'interno del consiglio direttivo c'era un componente che era delle fiorine che abitava proprio qui di fronte e quindi che ci teneva Franco, che ci teneva particolarmente e c'è sempre sollecitato prima Franco poi Gianni a sistemare proprio questo manufatto. E oggi vedete i lavori conclusi, penso che il risultato finale è stato ottimo, buono. E' stato anche aggiunto uno spazio proprio per ripristinare forse il senso originario di questo luogo ovvero uno spazio di relazione. Sì esatto, effettivamente abbiamo proprio cercato di dare, abbiamo creato questo piccolo spazio che è una sorta di piazzetta, passami il termine, uno spazio di aggregazione dove ormai il lavatoio ha perso la sua importanza, ormai non viene più nessuno a lavare i panni al lavatoio quindi non si trovano più le persone a chiacchierare, a scambiarsi opinioni intanto a chi lavoravano lavavano i panni. Quindi per riprendere un po' questo significato abbiamo creato questo piccolo spazio proprio di aggregazione dove uno si può sedere, c'è la panchina. Gianni Gonella è delle fiorine ed è tra gli alpini che hanno lavorato qui per questo recupero. Raccontiamo un po' di storia di questo luogo. Abbiamo notizie di questa sorgente, di questa fonte che è datata 1884 poi non so se subito è stata fatta la copertura o tutto l'insieme però ecco dal 1884 circa 150 anni fa esisteva questa fonte qui. Naturalmente qui in giro c'erano poche le case ed erano case dove tra l'altro c'erano anche delle bestie perché a quei tempi nelle case c'erano sempre due o tre bestie e quindi questo luogo quando poi hanno costituito le vasche è diventato un momento di aggregazione sia per le mamme che sul lato sinistro della vasca lavavano i panni e mentre sul lato destro le bestie potevano venire qui e abbeverarsi. Ecco le notizie erano quelle lì, ho notizie anche recentemente di un signore di una certa età che si ricorda che veniva qui e faceva delle belle lavate da cicorie nelle vasche e i genitori appunto che lavavano i panni. Quindi come è stato detto è un momento di aggregazione per quelle poche famiglie che a quei tempi erano qui alle fiorine. Di Paolo Tanza abbiamo già sentito parlare, da capogruppo ha dato il via a questo intervento di recupero e poi ha anche lavorato tante giornate di lavoro qui. Sì, sono contento di aver dato il là, diciamo così, a questo recupero che ha comportato tante giornate di lavoro anche se effettivamente lavoravamo o solo mattino o solo pomeriggio in base al tempo disponibile che avevamo. Si trattava, siamo tutti volontari la ragione per cui è andato un po' per le lunghe ma comunque l'abbiamo fatto con passione. Ricordiamo su cosa vi siete basati per effettuare il recupero. Effettivamente non abbiamo trovato notizie storiche su questo lavatoio però grazie a una fotografia vecchia pensiamo di essere riusciti a riportare il manufatto alle sue origini e credo che il risultato sia ottimo sia ben riuscito questo recupero. Grazie a tutti.